quando parliamo di toyota parliamo di un marchio una garanzia i leader costruttori di automobili soprattutto quando parliamo di ibride oggi vi presentiamo in vendita questa meravigliosa yaris hybrid lounge blu del 2020 unico proprietario con solo 11.000 chilometri in descrizione troverete il link per tutte le foto e soprattutto il prezzo ma se non trovate nulla cliccando ahimè siete arrivati tardi per questo vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube così da essere sempre tra i primi delle auto che selezioniamo per la vendita scopriamola meglio quello che innanzitutto salta all'occhio è questo meraviglioso blu metallizzato bicolor con il tetto nero che spicca molto e soprattutto l'allestimento lounge pure vi consente di avere tantissimi optional pensate che di serie se andate sul nostro sito troverete tutti gli accessori di serie ma di optional ce ne sono davvero pochissime e infatti un optional che è stato aggiunto è proprio il cruise control il navigatore pensate pagato 500 euro con retrocamera posteriore clima automatico di zona per quanto riguarda la meccanica non ho nulla da segnalare nel nostro test che abbiamo fatto abbiamo verificato che l'auto ovviamente chilometri originali perché tutti i tagliandi sono certificati toyota per la garanzia dei dieci anni della batteria per quanto riguarda invece la carrozzeria è originale non è mai entrata per essere ripristinata in qualche modo l'abitacolo l'abitacolo rimane sempre lo stesso una lunghezza al di sotto dei 4 metri rimane sempre la solita autovettura ma mi piace perché all'interno è davvero molto ben curata le plastiche sono morbide parliamo di questo blu che viene poi ripreso anche qui agli interni in questa pelle questo materiale morbido schermo 8 pollici touch screen comandi al volante e tanto e tanto altro che lascio a voi il piacere di scoprire all'interno troverete in descrizione anche i nostri contatti e dove poter venire a prenotare un test drive per questo vi aspettiamo